Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video sul canale, regà, live reaction di Inter-Salisburgo, terza partita del G9 di Champions League, sto andando allo stadio, regà, non era in programma assolutamente, perché non ero riuscito a prendere i biglietti, cioè o meglio, non ho voluto prenderli perché secondo me costavano troppo, 40€ in curva, secondo me era una follia, ma, ma regà, colpo di scena, ieri mio amico mi scrive e mi fa Ale, io non riesco domani sera a esserci a San Siro, se vuoi ti cedo un abbonamento, e ovviamente, regà, non me lo sono fatto dire due volte, quindi cessione dell'abbonamento fatta ieri e stasera, regà, si va in curva, non è in programma, ma sono contentissimo di portarvi con me quest'oggi allo stadio, appunto per la reaction di Inter-Salisburgo, partita ostica, però importante, perché possiamo fare un gran bel passo avanti verso la chiusura di questo girone, regà, per cui è fondamentale vincere oggi questa partita Si gioca alle 18.45, piove a Milano, oggi è una giornata molto grigia, speriamo che l'Inter possa renderla, diciamo, migliore, perché oggi, regà, veramente ha piovuto a dirotta a Milano Niente, basta, io non voglio dilungarmi troppo, solite raccomandazioni, iscrizione al canale se siete nuovi e campana in attiva per non perdervi le mie live reaction dallo stadio e da casa Iscrizione su Instagram, regà, dai che dobbiamo arrivare ai 1000 follower su Instagram, ci manca poco, siamo a 850, spingiamo anche su Instagram, regà, TikTok, poi se volete mi trovate anche lì E niente, dai, regà, basta, vi ho già rubato troppo tempo, via, adesso viaggio, si va a San Siro, viaggio di un'oretta, per voi per fortuna sono pochi secondi da qui a quando sono dentro lo stadio, per me è una bella oretta Ma ci siamo, forza Inter, dai raga, dai! Ma ci siamo, forza Inter, dai! Come il numero 21, Henry, Filippi Daya Come il numero 28, Mancini, Baha Come il numero 30, Cardos, Abusco Come il numero 70, Alessius, Sanchez E come il numero 95, Alessandro, Bastoli Come il numero 39, Nascita Come il numero 37, Alessandro, Battagli Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.